Ciao! Leggiamo? Il nostro Deus mi sembra che abbia molta voglia di leggere, guardate, sta già svolazzando da un pochino. Allora, il nostro Daniele, che è molto attento e molto scrupoloso, ci ha fatto notare e ci ha detto che lui è sì un dinosauro, è un sauro salvifico e quindi è un dinosauro. La parola dinosauro è composta da due parole, dino e sauro, che letteralmente, dall'antico greco, vogliono dire dino terribile e sauro lucertola. Quindi il nostro draghetto che avevamo chiamato così è veramente una lucertola. Immaginate gli antichi greci quando avevano iniziato a trovare scheletri di dinosauri, immaginate quale poteva essere la loro emozione. Stiamo parlando di migliaia di anni fa, siamo emozionati noi oggi, ma allora che magari non sapevano neanche che i dinosauri, anzi non sapevano che i dinosauri erano estinti e quando trovavano questi scheletri, magari avevano paura, pensavano che potessero esserci ancora. Chissà che emozione e chissà che curiosità anche. Bene, Deus, il nostro Deus, iniziamo le nostre letture. Allora oggi abbiamo una grandissima richiesta di Maria Teresa e leggeremo il mostro peloso. Per cui ora ci mettiamo in posizione. Pronti? Iniziamo col mostro peloso? Eccoci qua. Iniziamo col mostro peloso, ma prima una filastrocca di Gianni Rodari. E che è questa, dedicata a tutti i bambini, a tutti i genitori. Siamo pronti, stiamo per partire, che richiamo i nostri libri sui nostri vagoni e partiamo in treno. Il treno dei bambini. C'è un paese dove i bambini hanno per loro tanti trenini. Ma treni veri! Che questa stanza, per farli andare, non è abbastanza. Treni lunghi da qui fino là, che attraversano la città. Il capostasione è un ragazzetto, appena più grande del suo fischietto. Il capotreno è una bambina, allegra, con la sua trombettina. Sono bambini il controllore, il macchinista, il frenatore. Tutti i posti sui vagoncini sono vicini ai finestrini. E il bigliettaio sul suo sportello ha attaccato questo cartello. I signori genitori, se hanno voglia di viaggiare, debbono farsi accompagnare. Perciò bambini, chiamate i vostri genitori, ditegli, mamma, babbo, chiamate anche i nonni e le nonne. Nonno, nonna, iniziano le letture, venite con noi, salite con noi sui nostri vagoni. Stiamo per partire! Tiu-tiu! E adesso accontentiamo Maria Teresa, che non è stata l'unica, il mostro peloso. È un grande classico. Siete pronti? Nel bel mezzo di una foresta, fitta, 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 in una caverna umida e buia, viveva un mostro peloso. Era assolutamente ripugnante. La sua testa era enorme e da essa spuntavano direttamente due piedini piccolissimi. Per questo motivo il mostro non riusciva quasi a camminare e se ne stava sempre chiuso nella sua caverna. Aveva una bocca molto grande, due occhietti azzurrognoli e due braccia lunghissime e sottili che uscivano direttamente dalle orecchie con le quali catturava facilmente i topi. Aveva peli dappertutto, sul naso, sui piedi, sulla schiena, sui denti, sugli occhi e anche in altri posti. Il suo sogno era mangiare degli esseri umani. Tutti i giorni si appostava all'entrata della caverna e con un ghigno sinistro pensava, il primo che passa me lo mangio! Ma di lì non passava mai nessuno. La foresta era troppo fitta e troppo buia e siccome il mostro non si muoveva a causa di suoi ridicoli piedini, non era mai riuscito a catturare neanche un essere umano. Tuttavia, pazientemente, continuò a pensare con un ghigno sinistro. Tutti insieme, il primo che passa me lo mangio! Finché un bel giorno capitò che un re che stava andando a caccia nella foresta smarrì la strada. e senza accorgersi si avvicinò alla caverna del mostro peloso. Improvvisamente due braccia lunghissime uscirono dal buio e lo trascinarono giù da cavallo. Gridò l'orrenda bestiaccia. Finalmente si mangia qualcosa di meglio! Dei soliti topi! E già il mostro stava spalancando la sua enorme bocca, quando... Ehi! 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 Aspetta! 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 Ah! Disse il re! In giro c'è della roba molto più buona di me! Per esempio! Disse il mostro incuriosito. Qualche bambino morbido cicciottello! Disse il re! Ah! Ah! Sì! Fece il mostro! Così legò la gamba del re una corda lunghissima e disse che lo avrebbe lasciato partire a patto che tornassi indietro con un bel bambino da mangiare. Il re disse che avrebbe portato il primo bambino che incontrava. Stai attento però! Se cerchi di imbrogliarmi, me ne accorgo subito e ti trascino qui in un batter d'occhio! Capito? Ho capito! Salì sul suo cavallo e galoppò fino ai margini della foresta. Lì si fermò, prese dalla borsa un paio di grosse forbici e cercò di tagliare la corda che lo teneva legato al mostro. Ma era tutto inutile! La corda non voleva farsi tagliare! Era una corda magica costruita... costruita con cosa? Con i peli del mostro! Nello stesso istante, come da lontano, si udì la voce del mostro che gli decchiava. Ah! 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 Sì! Prova! Prova a fare il furbo! Così il re, scoraggiato, risalì in sella. Attraversò un villaggio sperando di trovare quel bambino. Ma... ma niente da fare! Per le strade non ce n'era neanche uno! Era mattina! E tutti i bambini erano a... scuola. Il re continuò a galoppare, sempre con la gamba legata. Era ormai arrivato nella vicinanza del suo castello, quando... proprio davanti a sé, lì, in mezzo alla strada, eccola! Una bambina che correva e saltava allegramente. Ecco! Ecco quel che va per me! Disse il re. Ma... Quale non fu la sua sorpresa? Non appena giunse più vicino, nel vedere che la bambina altri non era che... Che Lucilla! Sua figlia! Che era scappata dal castello per andare a comprare le calecca. Ma... ma ti avevo proibito di succhiare le calecca! E ti avevo anche proibito di uscire dal castello! Però subito dopo si ricordò della promessa che aveva fatto il mostro peloso. Oh! Se tu sapessi, Lucilla! Figlia mia! All'altro capo della corda, nella sua caverna umida e buia, il mostro stava ascoltando ogni cosa. Niente imbruglie! Voglio subito qui quella bambina, altrimenti... Il re si è misa a piangere. E la piccola Lucilla lo dovete consolare. Non piangete, babbo! Io... Io ho fatto volentieri dal mostro che mi vuole mangiare! Oh! Sventurata figlia mia! Così il re fece montare a cavallo la bambina e si diresse verso la caverna dove il mostro lo guidava tirando la corda. Giunto che fu, depose tremando la figlioletta. il mostro slegò la corda e ordinò al re di andarsene immediatamente. Poi si girò verso la bambina che aspettava educatamente con le mani dietro la schiena. ora ti faccio la festa. Peli sulla testa disse a Lucilla Ma come? domandò il mostro interdetto. Ho detto ho detto peli sulla testa perché tu tu hai peli sulla testa. Ma infatti ma infatti era vero era logico che avessi peli sulla testa visto che aveva i peli dappertutto. Ma ma mi prendi in giro piccola insolente. peli sul dente. Peli sul dente! Il mostro lo chiuso subito la bocca perché anche se era un mostro orgoglioso di essere peloso un po' si vergognava di avere i peli perfino sui denti. Però si riprese subito. Ora basta facciamola finita. peli sulle dita! Ma 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 smettila! Ma cosa credi? Oh peli sui piedi! Ma 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 io ma io li mangio i marmocchi! Peli sugli occhi! Ma 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 preferisci preferisci che ti sbrani? Peli sulle mani! ma se credi se credi di farmi pena! Peli sulla schiena! Ma ma guarda ma guarda che ragazzaccia! Peli sulla faccia! Bada bada non avrò pietà! Il mostro fuori di se si rotolava per terra in preda a una collera furiosa. Da vedere era anche carino poverino ma ma questi non sono modi da brava bambina! Peli sulla pancina! Lo giuro! Lo giuro! Ti mangerò! Peli sul popò! Era troppo! Era troppo! il mostro pieno di rabbia cominciò a gonfiarsi e a gonfiarsi e a gonfiarsi fin tanto che pam! Esplose in tanti piccolissimi pezzetti colorati trasformandosi improvvisamente in in farfalle di tanti colori! Ed ecco che da sotto la pelle dell'orribile mostro peloso comparve un principino ma così carino ma così grazioso che Lucilla non aveva mai visto uno simile. io sono un giovane principino peli sul nasino disse con un sorriso affascinante e dolcissimo nello stesso tempo tu mi hai liberato peli sul palato da un torribile malocchio peli sul ginocchio e hai distrutto la prigione peli sul tallone dove ero rinchiuso peli sul muso per un incantamento peli sul mento ora sono libero che meraviglia peli sulla caviglia e se vuoi prendermi per marito peli sul dito vivremo felici contenti peli a quattro palmenti la proposta era molto interessante e Lucilla accitò immediatamente e i due giovani volarono via in groppa una farfalla gigante e da quel giorno non si sentì mai e poi mai più parlare del mostro peloso fine della storia e fine dei peli grazie grazie a maria teresa grazie per questo consiglio una storia sempre bellissima un libro divertentissimo adesso che vi siete divertiti non avete preso paura veramente allora adesso tocca a voi però vi ricordate le favoline al telefono le favole al telefonino anzi allora ne abbiamo lette due finora sono tredici mi sembra che abbiano letto la nove e la undici dovete dire un numero al mio via 1 2 3 via al mio via pensate un numero io prendo il numero che sento arrivare più forte pronti 3 2 1 2 2 la contiamo contiamo contate con me favola numero 1 favola numero 2 c'era un bambino tanto buono imbarchiamoci propose il pirata mi aspettano a casa signore la cena è pronta urlò la mamma ma ormai i due pirati erano partiti il nostro fil rouge ah non so se la vedete lo vedete si da ieri ho messo quel libro che si intitoli innamorati un libro dedicato dedicato all'amore libro molto bello con delle illustrazioni stupende però è molto lungo da leggere c'è un altro più piccolino che parla appunto dell'amore vi siete mai chiesti visto che noi ci facciamo tante domande ed è molto bello farsi sempre delle domande più bello farsi le domande che aver sempre delle risposte ma da dove viene l'amore lo sappiamo ci siamo mai interrogati da dove viene l'amore ma vediamo ecco scoiattolo alce e anatra i tre amici si tengono compagnia e si scaldano il cuore stando vicini d'un tratto alci chiede ma tu dove viene l'amore io non ne ho idea dice scoiattolo ma non so nemmeno io dice anatra venite andiamo a scoprirlo chiediamo a quei cigni laggiù cigni da dove viene l'amore 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 viene dal cuore rispondono i cigni poi gli amici vedono uno stormo di uccelli su un albero ma i uccelli sapete dici da dove viene l'amore cip 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 l'amore viene dall'anima rispondono gli uccelli e volano via nell'infinito cielo poco dopo i tre amici si imbattono in un grande albero alto possente grande albero da dove viene l'amore l'amore cade dal cielo risponde l'albero alto e possente camminando ai tre amici era quasi sfuggito il lombrico l'ombrico l'ombrico tu lo sai da dove viene l'amore l'amore viene dalla terra dice il lombrico più avanti trovano due scimmie in cima a una roccia e voi scimmie da dove viene l'amore chiedono in coro alce scoiatto le anatra l'amore sta in testa dice mamma scimmia spidocchiando il suo scimmiotto in quel mentre gli amici notano un grande campo fiorito fiori fiorillini da dove viene l'amore 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 viene dal sole dicono in coro i fiori giunti al fiume vedono sfilare un banco di pesci 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 secondo voi da dove viene l'amore che tradotto vuol dire l'amore viene da stare insieme dicono i pesciolini ma ecco che a grandi balsi arriva un canguro oh canguro aspetta puoi dirci da dove viene l'amore chiedono sempre scoiatto l'alce e anatra in coro l'amore 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 viene dalla pancia risponde il canguro si senti tante ale che si battono dentro e aggiungono le farfalle sarà replica scoiattolo ma io nel mio pancino sento solo tanta fame ma io nella mia ho tanto ansete e io dice alce nella mia pancia sento solo il mal di pancia oh caspita e perché hai mal di pancia dicono scoiattolo e anatra insieme ma forse perché non ho ancora scoperto da dove viene l'amore scoiattolo e anatra massaggiano la pancia di alce un giro su un giro giù un giro in tondo di colpo si sente un gun e il mal di pancia è passato scoiattolo alce e anatra scoppiano a ridere come dei matti e stanchi per la camminata decidono di riposarsi un po' seduti vicini in compagnia i tre amici si sentono il cuore caldo e sicuro forse disse alce non serve sapere tutto ed un tratto si sente salire dalla pancia un lieve un lieve formicolio e fine della storia bene ognuno di noi può avere la sua idea da dove viene l'amore giustamente l'amore non è uguale per tutti l'amore è tanto e sono tanti tipi d'amore allora prendiamo la nostra borsa perché noi siamo anche noi innamorati di che cosa? ma dei nostri libri delle letture e poi c'è una cosa che vi devo dire in segreto anche i libri sono innamorati di noi tutti per cui c'è un libro che ci vuole far giocare un po' perché l'amore è un gioco anche l'amore è divertente ed è un indovinello sono degli indovinelli pronti? vi faccio vedere delle immagini e voi dovete indovinare si intitola vedo 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 un bel sole arancione che cos'è? è un sole arancione? è un sole arancione? è un sole arancione? siamo sicuri? ma ma no è un bottone beh se non avete indovinato c'è un'altra possibilità vedo vedo tanti alberi nella foresta sono gli alberi nella foresta? ci avete pensato? no sono i capelli della mia testa ancora un'altra possibilità vedo vedo una grossa campana campana beh questa però è facile è proprio una campana io dico che è una campana voi? qualcuno ha detto di no vediamo se è vero ma non è la campana è la gonna della befana allora ancora questo è un monte ghiacciato sì sì di sicuro è un monte ghiacciato no non è un monte ghiacciato vediamo un po' ma è vero è il dente di un gigante addormentato allora questa sicuramente è una duna un cielo e una notte blu è questo? non è questo è il nasino che guarda all'insù allora questa è sicuramente la sega di un falegname dite di no avete capito? anch'io ho capito ma sì è un coccodrillo che ha tanta fame e questa allora è una galleria scura 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 dite di no abbiamo capito ormai è una bocca che ha tanta paura e questo è un ponticello sicuramente un ponticello non può essere altro cosa può essere? dite di no non è un ponte? ci guardo io per primo ma è vero sono le gambe di mio fratello ma questo è un gabbiano che vola lontano è un gabbiano che vola lontano ancora no non è questo sono due ciglia che si dà alla mano ma è allora ancora un serpente come non è un serpente dai è un serpente sì è un serpente ma è la coda di un gattone vedo vedo è una luna nel cielo che pace come non è una luna? dai è bellissima la luna io sono appassionato della luna innamorato della luna dai è una luna non è una luna? non è una luna? e allora che cos'è? è la tua bocca che non tace ve l'avevo detto silenzio era un gioco era un semplice gioco e questa invece bellina invece no invece anche questa mi piace i cinque malfatti malfatti? chi sono i malfatti? questa è una domanda chi è che sa la risposta? i malfatti potrebbero essere facile lo dice il nome malfattori malfattori chi sono? banditi? delinquenti? ladri? farabutti? ma malfatti è un po' come dinosauro che ci sono due parole che compongono il nome mal fatti se noi li invertiamo prendiamo fatti e lo mettiamo davanti a mal diventa fatti mal fatti male erano i cinque così malfatti il primo era bucato quattro grossi buchi in mezzo alla pancia il secondo il secondo era piegato in due come una lettera da spedire il terzo il terzo era male sempre stanco addormentato il quarto oh il quarto il quarto era capovolto testi in giù e piedi in su il quinto ma il quinto lo lasciamo perdere il quinto era veramente un ammasso di stranezze era sbagliato dalla testa ai piedi guardate un po' aveva perfino due piccole ali in un corpo così una vera catastrofe non riuscivano a concludere un granchè nella vita non avevano voglia neanche di fare un granchè abitavano in una grande casa o una spelonca che si leggeva ma la pele in piedi discutevano spesso su chi fra loro fosse il più malfatto e questo li divertiva molto ma un giorno non si sa da dove arrivò un tipo straordinario era bello liscio perfetto aveva un naso al posto del naso un corpo bello dritto e neanche un buco in pancia e aveva anche una grande capigliatura cosa fate qui chiese il tipo perfetto beh niente sbagliamo tutto dissero i cinque amici ah ma non va bene bisogna trovarvi qualcosa un progetto una soluzione un'idea disse il perfetto ma a me le idee passano attraverso disse quello bucato io le idee non le trovo qui in tutte queste pieghe disse quello piegato io le idee c'erano tutte contrario disse quello capovolto e le mie ovviamente sono tutte sbagliate disse quello sbagliato disse quello molle dunque non servite niente siete delle vere nullità disse il perfetto con aria disgustata sarà disse il bucato però io non mi arrabbio mai la rabbia mi passa attraverso ma disse piegato io conservo tutti i ricordi qui nelle mie pieghe fece il molle che nel frattempo era ancora addormentato ehi disse capovolto io vedo le cose che tutti gli altri non vedono disse quello capovolto riselo sbagliato io che sono tutto sbagliato quando mi riesce qualcosa si fa festa e così dandosi delle pacche sulle spalle se ne andarono più contenti che mai mentre il perfetto restò lì solo come un vero perfetto stupido stupido ebbè sono carine pronti leggiamo ancora leggiamo ancora guardiamo cosa c'è qui guardiamo cosa c'è qui aspettate leggiamo che brutte abitudini Pierino una storia di Pierino ce ne sono tante ecco Pierino da piccolo aveva tante brutte abitudini se Pierino vedeva un lecca lecca per terra gli veniva voglia di raccoglierlo e mangiarselo la mamma però si metteva a gridare no Pierino no non si fa così Pierino se Pierino si accorgeva di avere del muco nel naso subito si impegnava a tirarlo fuori ma il papà si metteva a gridare no Pierino Pierino non si fa così Pierino a Pierino piaceva andare in cerca di vermi e lumache in giardino per giocare con loro ma Susanna la sorella maggiore si metteva a gridare no Pierino no no Pierino non si fa così Pierino a volte il cane gli lecava la faccia e a Pierino sarebbe piaciuto moltissimo ricambiare leccandogli il muso la nonna però si metteva a gridare no Pierino Pierino non si fa così Pierino se Pierino vedeva il gatto fare pipì nella viola quanto avrebbe desiderato imitarlo ma tutti avrebbero gridato Pierino ma non si fa così Pierino così Pierino aveva imparato in fretta a non fare la pipì nella viola a non giocare con i vermi e con le lumache a non mangiare i dolci che trovava per terra e perfino non lecare il muso del cane ma c'è una brutta abitudine che Pierino non riesce proprio a perdere quando nessuno lo guarda si toglie ancora il muco dal naso e a volte se lo mangia che Pierino e ora ci salutiamo dopo Pierino con Simone che ci racconti il suo caccapupù c'era una volta un piccolo coniglio che sapeva dire solamente una cosa facciamo tutti in coro 3, 2, 1 caccapupù ogni mattina la mamma gli diceva su dai sveglia Pierino mio piccolo coniglio scusate mio piccolo coniglio e lui rispondeva caccapupù a mezzogiorno il papà gli diceva mangia gli spinaci mio piccolo coniglio e lui rispondeva caccapupù di sera su sussare alla grande gli diceva vai a fare il bagno mio piccolo coniglio e lui rispondeva caccapupù un giorno un lupo gli disse posso mangiarti mio piccolo coniglio e lui rispose caccapupù allora il lupo mangiò il piccolo coniglio quando rientrò a casa la moglie gli disse tutto bene e il lupo rispose caccapupù qualche ora più tardi però il lupo non si sentiva affatto bene chiamò il dottore il dottore disse fai a e il lupo rispose caccapupù allora il dottore esclamò ma tu tu hai mangiato il mio piccolo coniglio così il dottore che non aveva paura di niente andò a cercare il suo piccolo coniglio e quando papà coniglio ritrovò il suo piccolo disse ahhh eccolo il mio piccolo caccapupù il piccolo coniglio esclamò sorpreso ma papà ma perché mi chiami così io sono simone lo sai e tornati a casa la mamma disse mangia la minestra mio piccolo coniglio e lui rispose oh sì è buonissima la mattina successiva però quando suo papà gli disse lavati i denti mio piccolo coniglio lui rispose pronti? lui rispose lo sapete cosa rispose tutti insieme lui rispose ciao ciao domani sera alle 18 ok tutti insieme sempre qui ciao